Rete Ferroviaria Italiana nei prossimi mesi metterà mano in modo pesante alla tratta ferroviaria Bassano-Cittadella-Campo San Piero, che sarà quindi interessata da importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. I lavori definiti di modernizzazione della linea inizieranno lunedì 24 giugno e termineranno sabato 31 agosto. In particolare i lavori nei pressi di Bassano saranno eseguiti proprio nelle prossime settimane. Lo scalo ferroviario di Bassano del Grappa verrà utilizzato come area di cantiere per il ricovero dei mezzi d'opera e per lo stoccaggio dei materiali sia quelli necessari alle lavorazioni che quelli così di risulta. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che le attività si svilupperanno prevalentemente in orario diurno ma alcune dovranno essere svolte in piena notte con possibili disturbi per la cittadinanza.